Ciao a tutti ragazzi, io sono Paglerite, chi me l'ha msm? Voglio dirvi che finalmente è uscito il nuovo stagionale librico Eccolo qua Fa il stesso suono di Kongle E si fa con Ula E pic... No Aspettate Ula E piccioncino No Non lo so ragazzi, non mi ricordo Aspettate Sì, Ula E... Va bene Va bene ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video, ciao